Juventus, Pogba incontra Giuntoli, in dubbio il suo futuro a Torino. Il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha incontrato per la prima volta il nuovo football director dei bianconeri Cristiano Giuntoli, oggetto della discussione? Il futuro, a Torino o lontano da Torino, del francese? Era nell'aria da tempo, e alla fine è arrivata anche l'ufficialità. Pogba, Cristiano Giuntoli è il nuovo popò giovecchio della Juventus. Giornata di incontri per l'ex Napoli quella di venerdì 7 luglio, alla Continassa, l'ex direttore sportivo del club azzurro, ha avuto anche modo di trattenersi con Paul Pogba. Ha le prese col percorso riabilitativo che lo porterà a calcare nuovamente i campi da gioco nel corso della prossima stagione. Diversi i temi discussi, presumiamo, da Pogba e Giuntoli nel corso della loro lunga chiacchierata, stando a quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport. Lo scopo principale dell'incontro sarebbe stato quello di valutare insieme le possibilità di permanenza del centrocampista, campione del mondo con la nazionale francese nel 2018. A Torino. Una stagione amara, quella del ritorno di Pogba alla Juventus a distanza di sei anni dal suo addio, dopo il primo infortunio, rimediato nel corso della preparazione estiva della passata stagione. Un altro risentimento fisico. Accusato dopo appena 24 dall'inizio del match dello scorso 14 maggio contro la Cremonese. Infortunio al quadricipite sinistro. Un ulteriore stop che complica i piani tattici e di mercato dei bianconeri. Come detto, un infortunio grave, di natura muscolare, che complica e non poco i piani di calciomercato della Juventus. Ne ha conoscenza il Fopo Gioecchio dei bianconeri Cristiano Giuntoli, il quale avrà cercato di capire le reali motivazioni sportive di Paul Pogba. Pur volendo privarsene, ad ogni modo, la vecchia signora appare costretta, almeno per il momento, a trattenere a Torino il proprio centrocampista. Pesa sulle casse societari e l'ingaggio, pari a 8 milioni di euro a stagione, percepito da Paul Pogba, per il quale non mancherebbero le richieste di mercato, specialmente dall'Arabia Saudita, come se non bastasse, la sempre più probabile esclusione dalle coppe europee della Juventus per la prossima stagione impone all'F di Giuntoli di fare cassa, cercando al contempo di abbassare il monte in gaggi. In tal senso, non è da escludere un'accelerata per il recupero fisico di Pogba, per poi aprire a una sua cessione sempre in estate.